Per quanto riguarda questo decreto dell'Imu, onorevole Fedriga, che cosa ne pensa la Liga Nord? Assolutamente insoddisfacente, perché noi chiedevamo al Governo il coraggio di cui aveva parlato il Presidente Letta all'insediamento alle Camere, coraggio che è totalmente sparito in questo decreto, perché si parla esclusivamente di una sospensione, oltretutto limitatamente alla prima casa, non considerando tutti gli altri casi, come per esempio le aziende, come per esempio le persone disabili, come per esempio coloro i quali vivono incomodato da gratuito nella casa di un parente stretto. Noi abbiamo chiesto di intervenire, di prendere una decisione immediata all'eliminazione dell'Imu, perché serviva il coraggio in questo momento di recessione economica di ridare risorse al Paese e ai nostri cittadini. E per quanto riguarda la Cassa Integrazione, quali novità ci sono? Il Governo è saltato un miliardo, ovviamente è un passo avanti, ma un passo avanti che purtroppo si fermerà a luglio. Infatti i rappresentanti della conferenza delle regioni hanno sottolineato come queste risorse siano insufficienti ad arrivare a fine anno. Anche in questo caso noi avevamo presentato degli emendamenti che cercavano di finanziare la Cassa Integrazione in deroga grazie anche a un blocco delle cosiddette pensioni d'oro. Maggioranza e Governo, anche in questo caso, che era una misura ovviamente di giustizia sociale, hanno dato un parere contrario.